Numerose operazioni di contrasto alla criminalità sono state svolte dal comando della Guardia di Finanza di Isernia. Operazioni sostenute a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno. Vediamo. Commercio abusivo, contrabbando, pirateria audiovisiva, operazioni antidroga e violazioni del codice della strada, soddisfacente il bilancio dell'attività repressiva alla fine del 2018 per la Guardia di Finanza. Sul territorio dell'Alto Molise i controlli delle pattuglie dei Baschi Verdi hanno visto l'impiego straordinario in provincia di Isernia di oltre 100 militari. Tra le operazioni di maggior successo ottenute a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno i finanzieri solo nell'Interland di Venafro hanno portato al sequestro di circa 200 grammi di droga e la segnalazione di 36 consumatori, in gran parte giovani. A Frosolone una persona è stata denunciata perché è trovata in possesso di circa tre quintali di fuochi pirotecnici illegali, nascosti in un garage. Per contrabbando di 360 litri di alcol puro un'altra persona è stata denunciata a Montaquila. Nel corso delle attività il comando provinciale ha infine elevato multe a numerosi automobilisti e sequestrato alcuni veicoli privi di assicurazione, mancata revisione e altri documenti scaduti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.